ciao a tutti ragazzi io sono robbie e bentornati sul mio canale oggi andremo ad aprire insieme i nuovi slime della skifidol quelli dedicati ai me contro te versus il signor s è la seconda mandata diciamo degli skifidol me contro te e vi voglio far vedere che il magazine è questo qui e vi dice che si possono trovare 5 slime differenti io ho preso tutti tranne quello al kiwi che non l'ho trovato allora iniziamo subito e iniziamo con questo qui che è sky fragrance vuol dire che ha il profumo di cielo va bene comunque andiamo ad aprire e tolgo la pellicolina allora eccoci qua ragazzi e penso che voi sappiate già che come la scorsa edizione il barattolino è diviso in due parti la parte dei me contro te e la parte del signor s e la parte del signor s è sempre costituita era così anche nella vecchia edizione da questo slime oddio ma qui che cosa c'è forse è meglio non indagare comunque è costituita stavo dicendo da questo slime molto molto watery molto gigloso e è proprio lo slime lo slime vecchio stile della skifidol la particolarità di questa edizione è che si dovrebbe illuminare al buio wow 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 ok allora non ve lo faccio vedere illuminato al buio semplicemente perché per come è strutturata casa mia è un po problematico adesso creare il buio ma se mi seguite su instagram lo posterò sicuramente nelle storie allora vediamo la parte dei me contro te allora e ogni slime contiene degli charm molto carini guardate questa una stellina carinissima e poi abbiamo una nuvoletta carina e questo è trasparente pieno di glitter e di flakes wow bello ed è un gammi slime quindi purtroppo ragazzi ecco vedete ritorna ad essere subito duretto si spezza anche voglio sentire l'odore un attimo allora non puzza ma profuma neanche diciamo si c'è un profumino leggero 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 non so dirvi neanche di cosa comunque questo non mi dispiace affatto rimettiamo i chance dentro e andiamo al secondo slime allora apriamo questo raspberry fragrance quindi lampone profuma di lampone vediamo un pochino tolgo la pellicola ragazzi c'è tanta roba questo profumo buonissimo allora io non sto a ritirare fuori di nuovo questo del signor s perché tanto sono tutti uguali l'unica cosa è che non capisco perché ci sono questi filamenti strani forse l'altro slime che si è mescolato probabilmente così mamma mia ma che profumo o dove vai signor s che profumo di lampone allora vediamo questo charm oddio quanto è carino l'idea di metterci questi oggettini mi piace molto ce n'è uno solo sì c'è solo questo forma di lampone è però questo oltre ad avere dei glitter verdi anche i fruttini infimo bello parlato troppo presto se molto bello mi piace tantissimo il colore mi piace tantissimo il profumo però ecco le consistenze sono queste ragazzi non pensate che possano essere belli e elastici da allungare ecco perché vedete succede proprio questo e questa cosa non mi piace tanto perché l'idea è veramente bella mi piace il fatto che siano divisi in due eccetera eccetera mi piacciono questi profumi i charms che ci troviamo all'interno e tutto quanto fatelo lo slime un pochino più elastico no va bene allora proseguiamo con questo che al profumo di banana wow apriamo il barattolino e vado sempre a togliere la ragazzi profumo top cioè avete presente quei cioccolatini della perugina che sono proprio a forma di di banana che hanno il cioccolato fondente il ripieno bananoso cioè quello l'odore sono felicissima allora il signor s è sempre lui lasciamolo qui così evita di far danni e tiriamo fuori lo slime di lui e sofì allora eccoci qua abbiamo un oggettino a formati casco di banana mini casco di banana e vediamo che ci sono le fettine di banana sempre in fimo e ci sono glitter e pagliuzze dorate molto bello guardate che bello questo giallo veramente bello ma il profumo ragazzi forse come profumo questo è quello che mi piace di più anche più del lampone però come slime era più bello quello al lampone secondo me ok allora lo rimettiamo dentro oddio non non cambiare ecco non andare dalla parte sbagliata rimettiamo la bananina ok e adesso vi faccio vedere questo che io ho già aperto perché l'ho aperto per fare un video su instagram anzi se non mi seguite ancora su instagram mi raccomando vi lascio il link giù nell'info box perché li metto tantissimi tantissimi video slime e ci sono anche tutte le informazioni del concorso a cui sto partecipando master slimer quindi questo è già aperto allora era la fragranza oceano quindi infatti sa proprio di fresco e guardate qui lo slime era veramente poco poco cioè andate a verificare su instagram insomma non è che l'ho tolto adesso però aveva questi due charms che secondo me sono i più carini guardate il cavalluccio marino quanto è fatto bene mi piace da impazzire un colore stupendo e guardate anche il polipetto con i suoi tentacolini con tutte le ventose veramente belli questi sono i charm più belli e questo era il più duro cioè questo già dall'inizio ma ripeto se non vi fidate andate su instagram questo già dall'inizio risultava molto duro però è veramente bello perché questo color proprio acqua vedete che è trasparente ma leggermente colorato di celeste con le stelline olografiche tantissimi glitter e queste conchigliette sempre olografiche quindi è un vero peccato perché mi piaceva tantissimo però anche a voi non sembra di meno cioè prendiamo per esempio la banana forse ma si vede subito guardate guardate che differenza io adesso non so come mai magari il signor s fu riuscito aiuto aiuto forse è un problema del mio barattolino non so ma vedete comunque sono molto diversi la banana è quella più grande in assoluto vediamo questo poi ascoltate questo signor s però fa veramente tanti danni e si anche questo forse un pochino più piccino però lui è più piccino in assoluto proprio è la banana è la più grande ok comunque ragazzi ecco rimanessero così sarebbero stupendi solo che due volte che l'avete maneggiati e poi ecco si torna a far fatica perché poi si spezzano ok comunque questo questi erano gli slime che ho preso io metto un attimo in ordine e facciamo il punto della situazione ragazzi questi erano gli slime nuovissimi dei me contro te della schifidol e non lo so ragazzi che cosa dirvi sicuramente a me sono piaciuti però mi infastidisce un pochino il fatto che non riescano a formulare uno slime gammi che rimanga un pochino più elastico e più giocabile più godibile questa cosa mi lascia sempre un po sono sicuramente più belli della scorza edizione perché hanno gli oggettini in in resina credo in plastica insomma che sono molto carini mi piacciono tantissimo le profumazioni però ecco c'è qualcosa che ancora non mi convince fatemi sapere se volete magari un video dove proviamo a modificarli insieme e a renderli un pochino più elastici questo potrebbe essere una bella idea comunque fatemi sapere che cosa ne pensate voi sono molto curiosa fatemi sapere se li avete già acquistati e qual è il vostro preferito e com'era il kiwi se ce n'era tanto ce n'era poco dentro quanto era elastico se era più morbido o meno morbido voglio sapere tutto di questi slime io per adesso vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao